Buonasera, io sono Alessandro Barca, insegno didattica generale e didattica della IRC presso la Facoltà Teologica Pugliese. Oggi presentiamo questo testo bellissimo della professoressa Raffaella Conversano, dove il titolo ci dice tutto, già diversa agiabilità, questo intendere, questa nuova teoria pedagogica rivoluzionaria che mette al centro la persona diversamente abile spostando l'attenzione sul diversabile che oltre a avere diverse abilità deve essere considerato per le sue reali agilità. Io questa sera tirerò un po' le fila di questo discorso, interverrà la dottoressa Vozza, l'autrice e cercheremo insieme di capire questa teoria pedagogica moderna, modernissima, dove vuole arrivare e dove vuole andare a parare. Io penso che la pedagogia contemporanea debba fare molta attenzione a questa riflessione perché può essere davvero una teoria innovativa l'applicazione delle app, l'applicazione della tecnologia alla diversabilità, che non sposta il nuovo umanesimo integrale di una virgola. Oggi parliamo di nuovo umanesimo integrale, che cos'è, come si applica anche con l'ausilio delle tecnologie. Buonasera, io sono Cristina Vozza e dirigo una scuola dell'infanzia paritaria e un asilo nido a Taranto. C'è un forte collegamento tra ciò che c'è scritto nel libro della dottoressa Conversano e quello che è il mio ruolo nella scuola, sia come dirigente che come insegnante. Ritrovo un filo comune per quello che è sicuramente l'approccio con i disabili, così come sono comunemente definiti. Cioè un approccio all'individuo come persona, quello che facciamo anche nella nostra scuola a livello emozionale. Quindi un'attenzione in più a questi individui rispetto a quello che solitamente invece nella società si ha, ovvero soltanto l'aspetto patologico. Quindi la mia presenza qui questa sera è per testimoniare quella che è l'esperienza nella mia scuola a livello di insegnamento di un'intelligenza che non è solo l'intelligenza cognitiva, ma è un'intelligenza invece emotiva, che è quella che tra le due ci rende pienamente umani. Siccome stasera parliamo anche di un nuovo umanesimo, ciò che ci rende pienamente umani è proprio l'intelligenza emotiva. Così come sottolinea la dottoressa anche Conversano nel suo libro, quindi il tenere presente degli aspetti di questi individui disabili, definiti da lei disagibili, agibili e abili anche se in maniera disturbata. Quindi andare a vedere quali sono le loro parti sane, le loro potenzialità. Quindi su questo andare a lavorare. Quindi è questo che stasera faremo. Grazie. Sono Chiara Dolorenzo, sono qui per supportare il lavoro di Raffaella, ma in realtà per presentare un lavoro che succede sullo stesso livello, ma attraverso un'altra forma di comunicazione che è la danza. Lavoro con la Community Dance dal 2013 in questa zona, in Galatina, con un gruppo di ragazzi diversamente abili. Ed è stato interessante vedere nel corso di questi tre anni come la danza è servita come Mijim per la loro crescita, ma soprattutto per un cambio di prospettiva, di visione da parte degli altri rispetto alla diversabilità. Quindi la diversabilità come risorsa, la diversità come punto di crescita, punto di incontro, attraverso la danza. Il primo anno abbiamo organizzato un progetto solo ed esclusivamente per i ragazzi diversamente abili. Quest'anno è un progetto inclusivo, cioè tutta la comunità coopererà per una settimana di laboratori intensivi alle officine Martinucci. Verranno diversi artisti da tutta Europa che lavorano con la Community Dance e creeremo insieme nel corso di una settimana una coreografia che verrà presentata il 5 sempre alle officine. Quindi per noi il punto chiave è l'inclusione, ma non del diversamente abile nel sociale, ma del sociale nel diversamente abile. Quindi questa è per noi, questa è la nostra filosofia, una filosofia che lo scambio attraverso un linguaggio che non è quello verbale può produrle solo che umanità e crescita. Il libro nasce dal desiderio di riunire tutti i vari step della mia ricerca, ricerca che nasce nel campo della sperimentazione e della implementazione delle tecnologie dell'istruzione con situazioni dal punto di vista clinico, sindromico, patologico di diversa abilità negli alunni. Perché questo titolo, Arginare la disagiabilità? Perché ho preso la parola agi e l'ho inserita all'interno di una parola che contiene una negazione, disabilità e come a squarciare una gabbia per rendere agibile comunque il pensiero verso l'ottica che noi abbiamo della persona. Come nasce questo libro ancora? Nasce dalla implementazione di un pensiero pedagogico nuovo, pensare la persona dalla parte sana, analizzare ciò che è potenzialmente ancora valido, non educare o lavorare con la parte malata perché quello attiene al clinico, alla parte medica. È un libro dedicato innanzitutto agli operatori del campo scolastico, del campo dell'educazione, agli operatori socioeducativi e di contro anche ai genitori, alle famiglie, in modo da essere più tranquilli, più sereni nel momento in cui può subentrare una situazione complessa all'interno dei loro contesti affettivi e in modo da sapere come riorganizzare, rivedere la performance della persona non guardando la malattia, ripeto, ma guardando la parte sana di essa.